Per aumentare lo spazio della tua casella PEC, da Webmail PEC, collegati all'indirizzo webmail.pec.it. Inserisci la tua casella PEC e la relativa password. Clicca sul menu utente in alto a destra e poi su Aumenta, oppure dal menu in alto seleziona la voce Impostazioni. Quindi, da Informazioni casella, clicca su Aumenta spazio in corrispondenza dello spazio casella che vuoi aumentare. In caso di casella PEC di tipo PRO e PREMIUM, visualizzerai anche il pulsante che ti consentirà di aumentare lo spazio dell'archivio. Alla schermata carrello seleziona quanti GB aggiuntivi vuoi acquistare per lo spazio della casella, ed anche per lo spazio archivio in caso di casella PEC di tipo PRO e PREMIUM. Prosegui. Alla schermata successiva, conferma o modifica i dati titolare della casella PEC. Solo in caso di persona giuridica o di pubblica amministrazione, su Dati fatturazione inserisci l'identificativo per l'invio della fattura elettronica. Poi prosegui. Seleziona la modalità di pagamento. Accetta le condizioni generali di contratto. Conferma e completa l'ordine. L'ordine è confermato e riceverai anche un'email di riepilogo ordine all'indirizzo di riferimento della tua casella PEC. A questo punto procedi con il pagamento. Solo dopo l'accredito del pagamento riceverai una mail di conferma e il servizio richiesto ti risulterà attivo.